Questa estate si c'era il cinquantesimo debutio, cinquant'anni fa tanti gruppi si erano là, ma molti non sanno che tanti gruppi che non sono affiniti nel film hanno suonato debutio e i Creedence sono uno di quelle band che pur avendo partecipato al festival non sono affiniti nel film e nel disco. Questo marano che noi facciamo da qualche anno non è dei Creedence, è solo di John. Però noi amiamo i Creedence. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Buonanotte. Alla prossima.